L'IRCA di Ancona, senza fare troppo rumore, è diventato riferimento per molti casi impossibili, come quelli di anziani che non sarebbero in grado di sopportare pesanti interventi con anestesia totale. Quanti anni ha? 97. Come sta dopo l'intervento? Per me è stato un intervento buono perché sono stato sempre migliore. Lei sa che questa sua storia farà storia? Sì, ti renderanno conto perché non mica tutti avrebbero avuto il coraggio di operare una persona a 97 anni. Antonio è reduce da un intervento che probabilmente nessuno si sarebbe arrischiato a fare, una gastrectomia per la quale comunemente viene praticata un'anestesia completa che gli anziani a quell'età non sono in grado di sopportare. Ad Antonio è stato addormentato soltanto l'addome e assistito da sveglio al lavoro del chirurgo Gianfranco Boccoli. C'è un'emergenza chirurgica perché il paziente sanguinava e aveva fatto 16 strassuzioni in una settimana. Poi bisogna sempre valutare le condizioni del paziente, l'età biologica rispetto all'età cronologica e considerare che nell'anziano la qualità di vita è meglio della vita stessa. Ma in cosa consiste questa tecnica? Lo spiega l'anestesista Roberto Starnari. La tecnica di anestesia spinale in questo caso noi l'abbiamo resa continua, nel senso che con l'introduzione di un catetere appunto nello spazio subracnoideo abbiamo la possibilità di estendere la durata dell'anestesia a seconda delle esigenze del chirurgo e nello stesso tempo usare la minor quantità possibile di farmaci, cosa che altrimenti con la tecnica singola, di singola puntura, non è possibile. Antonio in definitiva era considerato irrecuperabile e invece è attivo, gioca a carte e nel giro di poche ore verrà dimesso e all'IRCA non è un caso isolato. Con questa tecnica di anestesia subracnoidea continua sono stati operati nell'anno 2017 e 2018 ben 110 pazienti con esito positivo e con notevole riduzione delle complicanze post-operatorie più temibili nella chirurgia dell'anziano. Questi sono pazienti che normalmente non farebbero riabilitazione e qui proprio perché hanno dei tempi di degenza in chirurgia brevi possono permettersi e con ridotto consumo anche di sangue possono permettersi poi un trattamento riabilitativo intensivo quindi fanno fino a due trattamenti al giorno con un buon recupero funzionale tant'è che il paziente dopo tre settimane può andare a casa recuperando anche meglio di prima. La nostra missione è curare gli anziani e curando gli anziani come IRCS noi possiamo anche fare come in questo caso della ricerca quindi sperimentare nuove tecnologie, nuovi modelli di cura che poi ovviamente sottoponiamo a verifica e che come in questo caso si dimostrano efficaci ci permettono poi di anche trasferirli ad altri ospedali e anche andare ad insegnare le conoscenze che abbiamo acquisito.